Buongiorno, mi chiamo Rosalinda, vengo dai giardini Naxos e mi trovo qui alla clinica Corbo dopo varie, diciamo, girato, girato mezza Sicilia e tramite un conoscente mi ha detto di questa clinica e sono partita un po' scettica veramente perché i miei denti erano proprio, avevo un sorriso pessimo. Quindi sono arrivata qua e già dal primo appuntamento ho visto questi ragazzi tutti giovani, belli, simpatici che mi hanno accolta veramente con tanta professionalità e con amicizia, ecco questo è importante. Mi hanno dato modo di esprimermi, di dire tutto quello che pensavo in quel momento e veramente sono stati meravigliosi. Adesso sono alla fine, come potete vedere questo è il mio sorriso nuovo, sono veramente felice e cosa posso dire?